Continuiamo a parlare di Adobe Premiere Pro, continuiamo a parlare di export. Nella scorsa lezione abbiamo visto come impostare un logo o un'immagine qualsiasi direttamente in fase di export, immagine che resterà stampata dall'inizio alla fine del nostro video. Quest'oggi andiamo avanti e parliamo della possibilità di stampare un timecode direttamente in fase di export sul nostro video. Ipotizziamo di voler condividere il nostro lavoro con un collaboratore che magari vuole rivedere quello che abbiamo fatto per dirci guarda quel minuto lì è sbagliato questo, modifichiamo questa. Per avere un riferimento temporale uguale per tutti utilizziamo i timecode, codici di tempo. È semplicissimo da utilizzare questa funzione, molto simile alla funzione vista nello scorso tutorial. Andiamo sempre qui nella finestra di export quando esportiamo un video. Invece di utilizzare la tab video, tab audio andiamo nella tab effetti. Abilitiamo qui la voce sovrapposizione codice di tempo, espandiamo le caratteristiche di questa voce. Come potete vedere ci sono alcune voci simili all'impostazione vista nel video precedente quando abbiamo parlato della sovrapposizione delle immagini. Quindi possiamo scegliere la posizione del codice di tempo, possiamo metterla in basso al centro ma possiamo metterla anche in alto al centro. Per esempio possiamo riposizionare il codice di tempo con queste altre due variabili, x e y. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato degli effetti video. Sono sempre quelli i concetti, alla fine gira e ti rigira. Abbiamo le dimensioni per fare il timecode più grande o più piccolo a nostra scelta. E abbiamo ovviamente l'opacità. L'opacità riguarda lo sfondo. Un'opacità al 100% genera uno sfondo completamente nero. Un'opacità allo 0% rende il background trasparente. Da cosa viene generato questo timecode? Dalla timeline in questo caso. Quindi il Premiere prende come riferimento temporale il codice di tempo della nostra timeline. Ma possiamo anche customizzare questa opzione. Possiamo per esempio generare noi un codice di tempo ad hoc. Ovviamente possiamo impostare una base temporale differente. Non vedo il motivo ma potremmo volerlo. Potremmo anche decidere di partire invece che da 0,0. Per esempio potremmo partire da 0,1. Ci sono casi in cui ci può essere chiesto di fare una cosa del genere. Fatta questa operazione clicchiamo su esporta e ovviamente il nostro video verrà esportato con il timecode stampato. Avendo spuntato e impostato anche l'immagine in sovraimpressione questo video avrà entrambe le cose. Avrà sia l'immagine che il timecode esportati in un colpo solo. Nel prossimo video tutorial parleremo dei sottotitoli. Perché qualche lezione fa quando abbiamo visto come impostare i sottotitoli, inserire i sottotitoli in timeline. Vi ho detto che i sottotitoli possono essere esportati in un file esterno. Bene, è possibile fare così ma è possibile anche stampare i sottotitoli dentro il video in maniera indelebile, permanente. Per farlo utilizzeremo la tab sottotitoli ma ne parleremo nel prossimo video tutorial. Per il momento www.fabbiambrosi.it Sito dove troverete l'articolo di questa lezione. Oltre all'indice degli argomenti di questo corso troverete anche il corso introduttivo ad After Effects. Per chi fosse interessato, il canale YouTube è quello su cui state probabilmente guardando questo video. Iscrivetevi se ne avete voglia e cercatemi su Facebook. La pagina da cliccare e su cui mettere il like è Fabio Ambrosi. Per il momento vi ringrazio. Al prossimo video tutorial. Ciao! Ciao!